Bella a tutti ragazzi e bentornati, era parecchio che non giocavo a The Wolf Among Us, so che l'ho lasciato in sospeso Ci sono state tante cose da fare ultimamente quindi diciamo che lo avevo un po' accantonato Ma torniamo anche perché penso che manchi poco alla fine dell'episodio 1 Credo che presto uscirà anche l'episodio 2 se non è già uscito mentre ve lo sto dicendo Spero di no Non so se vi ricordavate quello che era successo, se non è successo il Winket Stavamo andando comunque al bar Quindi da solo questa info Che spero voi abbiate visto i video precedenti Stavamo andando al bar perché comunque c'era stata data sta notizia Dalla Todd e per dire questo non ho sentito qualcosa che ha ferito Woodsman Ok c'è questo quindi non si aspetta Dobbiamo chiederglielo Quindi appunto stiamo andando a cercare il Woodsman a questo bar Perché il top ci aveva detto che probabilmente l'avranno trovato lì E il bar si chiama Speravo succedesse un altro thing Apparisse il bar Il bar è apparso lì ma Non è quello che sta avendo Che carino Che carino F*** this Però è l'importante Ok forse l'ho distrutta dicendo che non era importante È un altro C'è sempre qualcosa che si può fare di più Per esempio scriversi Non so se avete notato ma Se non partire da essere uno strozzo Adesso mi sta un po' mordire Ebbè almeno con lei devo fare Il cascamotto Un po' mi piange il cuore Non per quello che stai dicendo Perché soltanto hanno la marea di lavoro Che devo fare per mettere su tutti i temi Non è vero Ne verrà anche Eh che trip trap Non mi veniva assolutamente il nome Dopo questa lunga passeggiata in taxi Questo è il zentaglio Insomma le abbiamo detto che andiamo da solo O meglio lei ha proposto che andassi da solo Perché probabilmente la povera Queste noi siamo un po' più Quando vogliamo stronzi Ci tieni a noi Ci tieni a noi dai Ci tieni a noi Non vorrei ritrovarti La stessa è per te La testa sulle scarette Della mia porta davanti Per te Quindi Andiamo in questo bar A cercare il Bootsman E lo troveremo Non ce l'ho mai grato Che felicità Nessuno è contento di vedermi Mai Dov'è il mouse? Wow Ehi Sì Facciamo un po' di stronzi Questo è lo stesso tipo Che stava a fare la fila Davanti al nostro ufficio Tipo Non so se ve lo ricordate C'è che non c'è stato Che non viene qui da un bel po' Pare sincero Faccio da Fuck Non ho risposto in tempo Ok Eccolo l'ultimo Stava felice qua C'è veramente fauna Apparentemente fauna No No Sigaretta Adesso ho letto Ah Ho letto adesso Fuck this Wow Tu hai chiesto Gli spicci Porca C'è Molte di stronze Non è stato simpatico Dai Né che l'hai stato simpatico Vediamo un po' che c'è qui Chalkboard Ok facciamo le stronze Che no Ops Ok Ecco A volte dovessimo scucire Fuori Qualche notizia Perché dovessimo ci vuole dire niente Ok Sono bloccato Era scordata che si poteva Sprintare Facciamolo credere Io avrei fatto credere Chi è qui C'è questo? C'è qualcuno che raffa Oooo Perché la c'è Come Non so Perché non ti avessi Si C'è Si Vuoi un poste più Si Si Sabe Come C'è C'è L'ho C'è C'è Non Ma Poggio È ...I'm good at picking up on this stuff... ...I can't remember... ...I don't know how to go and get it... ...I don't know how to go... questo è un posto felice parliamo con questo tizio che si chiama Graham ho come l'impressione che possa finire a cazzotti per questa volta ok se down a lot of stools in this place got a problem a gentleman you're gonna order something or you're just here to bother my customers you know what I mean give me a Midas gold you want a lime sure sure I think they have some of the bar down the street that's funny yep think it's fucking hilarious it was all right come on guys I don't want to be here you don't want me here the sooner you answer my questions the sooner I'll be out of your I don't want to you don't want to you don't want to you are hungry you just didn't want to you don't want to ahia che faccia fai ha ha sembra stai qui save you beer for you Holly wanted to clear it but I said no you'll be back now here you are you and me have been going at it for hundreds of years I'm through fighting you can always come quietly not sure you knew that was an option before you're in luck I decided to switch seats oh oh don't fuck with me last fella put his hand on me ended up with an axe in his head last fella I put my hand on ended up in the ground really ok it's on a card it's funny just a minute ago no one seemed to know who you are yeah well everyone knows you big bad wolf now I'm the bad guy and you're a sheriff what kind of fucking world is that huh there's not much to explain it's a big secret I needed money I walked past her place for weeks she didn't look like it she had money I was sure of it she wouldn't put up any kind of flight she wouldn't put up any kind of flight no stop I was gonna rob her and the night I finally get up the nerve to do it there you are there you are you were just in the wrong place at the wrong time you were just in the wrong place at the wrong time what are you talking about exactly what are you talking about exactly red riding our grandmother I was there to rob them but when I showed up you were already there lying in the bed I only saved her because I thought she might give me a reward but she didn't give me shit except a bunch of people thinking I'm something I ain't I played along as long as I could the thing I managed to get from it was a free drink every now and again hmm not a good that did did you kill Faith what? Faith? who's that? the girl you were beaten on this morning no 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 I was here I swear it doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later she's dead Bigby listen I I'm a piece of shit okay I know that I hit that girl I did I shouldn't have but I didn't kill her you believe me right? they're gonna string me up Bigby like you said it looks fucking bad it looks really bad but I didn't do it he was here that's the fucking truth sheriff oh they suck bigby please you can't they'll throw me down the witch and well that's what they'll do and I didn't do it you know that hey stop this isn't what I want oh shut the fuck up Woody shit ain't just about you it's about this fucking lab dog and they come sniffing around this part of town when the rich fucks and the woodlands need a shake down ain't that right Bigby you're back in the wrong guy if you saw what I saw last night you'd know that what I see is someone who wouldn't be here if I was the one needing the law for some help Holly sister goes missing no one gives two shits about her paperwork waiting rooms and that bitch snow white looking right past me then ushering me out the fucking door that all you got that all you got seem to be enough don't be so sure oh oh good che cazzo è è fantastico ma che cazzo è you should have walked out of here when you had the chance come on you're scared the lady don't worry about me quale cazzo il mostro sarebbe della quale cazzo il mostro sarebbe della dell'estate dell'estate ahia ahia ok prendi questa non mi faccia niente non ci piace perchè ci prende alcuni ah 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 ha what there ha che cazzo di nostra amo e tal e Che puoi dare a una mano? Oh, oh, oh Guardate a me Wow Non ho manco di solo da fatto Ciao, sono la versione figlia No, 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 Wolverine è già figo Volevo dire, sono tipo Wolverine Ah Va benissimo Non ce l'avevo queste cose L'avrei fatto, guarda L'avrei fottutamente fatta Benedizione Questo stronzo Quanto sei brutto Quanto sei brutto Eh, fantastico Bello, non abbiamo neanche più lividi Il sangue è pulito Bello, non abbiamo neanche più lividi Ok Quindi che cosa abbiamo scoperto? Mi ha fatto l'inizio mio Non è proprio colpa questa Who's there? Allora Allora Ho 100 euro per il primo blocco che può dire qualcosa su una nascita Ci rivediamo Non ti permetterai a correre sto giro Non hai campo What? Ehm Ehm Non lo so Ehm L'unica posta che abbiamo è Woodsman Quei tipi due Stai giocando a me frega Woodsman Ah You said you wouldn't hurt me You said you wouldn't run Shit Guy's covered in blood You let him go No one asked you Come on Io stavo quasi per fidarmi Anche per oggi comunque ci freniamo qui E spero che il video vi sia piaciuto Ehm Se vi è piaciuto mettete un like Iscrivetevi mi raccomando Per restare aggiornati sulle prossime uscite dei video del nostro canale Ehm Mi scuso per non averlo fatto uscire prima Quindi Continueremo presto The Wolf Among Us Che sta anche quasi per finire Ehm See ya! Puuu 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 Puuu